Mister, oggi giocavate contro la prima della classe e è arrivata una brutta sconfitta. Cosa pensa che sia mancato oggi? Sapevamo che era una partita difficile perché i numeri parlano per loro. Sapevamo che controllavamo una squadra forte in ogni reparto e che sta dimostrando di essere al limite dell'imbattibilità per quello che sta facendo in questa prima partita di stagione. Purtroppo speravamo di fare una partita diversa, di affrontarla in maniera diversa. Non ci siamo riusciti, per meriti loro sicuramente, ma sicuramente ci sono anche delle colpe nostre. Come si prepara la prossima partita contro il Trani? Si prepara già pensando da domani a domenica perché domenica deve essere una partita che ci deve far dimostrare che è stato un episodio e che dobbiamo andare avanti, dobbiamo assolutamente rialzarci subito. Quindi domenica si prepara da martedì pensando che questa sia andata male, purtroppo, nel peggiore dei modi possibile, però da martedì c'è da preparare una nuova partita.